La nomina di Giuseppe Conte a segretario del nuovo Movimento 5 Stelle potrebbe scombussolare l'assetto politico del centrosinistra. Secondo un sondaggio, infatti, il nuovo Movimento 5 Stelle, chiamiamolo così, surclasserebbe il Partito Democratico. Il PD potrebbe retrocedere clamorosamente diventando addirittura il quarto partito italiano dopo Lega, nuovo Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Ma prima di parlare del sondaggio clamoroso sulle intenzioni di voto da parte degli italiani, vediamo quali ripercussioni invece ci sarebbero all'interno dell'attuale Movimento 5 Stelle. Come sappiamo Conte ha dato la sua disponibilità a prendere appunto la segreteria del Movimento, ma chiaramente vuole avere alcune e anzi molte rassicurazioni. In pratica, insomma, ci dovrebbero essere tali e tanti sconvolgimenti che poi di fatto, diciamo, rimarrebbe ben poco dello statuto del Movimento. C'è addirittura chi ipotizza un cambiamento proprio radicale, ossia la fondazione di un nuovo soggetto politico che avrebbe tra i suoi fondatori appunto Giuseppe Conte e quindi verrebbe rottamato, diciamo, il nome e il simbolo del Movimento 5 Stelle. Al momento poi non si sa neppure con certezza chi sia il proprietario del logo, del simbolo del partito. È Beppe Grillo oppure è la Casaleggio? Naturalmente non è una questione da poco, ma al di là del logo a Giuseppe Conte importa soprattutto che venga completamente stravolto il rapporto del partito con appunto la Casaleggio Associati. E' ovvio che Conte voglia avere carta bianca, insomma, nessuna interferenza da parte di Davide Casaleggio. Si dà per certo poi che venga così eliminato completamente il vincolo al secondo mandato. Probabilmente verrà rivista anche la contribuzione che appunto in questo momento è prevista dallo statuto da parte dei parlamentari. Insomma, è molto probabile che il nuovo Movimento 5 Stelle sarà a tutti gli effetti un partito diciamo come tutti gli altri. Nel suo nuovo statuto, ripeto, scompariranno quei vincoli che avevano finora permesso al Movimento di distinguersi da tutti gli altri partiti. Certamente i malesseri all'interno del Movimento non mancano, questi non sono mai scemati diciamo. E anzi, dopo la clamorosa scissione avvenuta in occasione della fiducia appunto al governo Draghi, se possibile sono aumentati insomma. Dopo la nascita di alternativa c'è. Ebbene, ora sembra però, appunto, dopo questa scissione che da parte del Movimento 5 Stelle non si voglia più procedere con le espulsioni. O meglio, pare che verranno espulsi soltanto coloro che hanno votato no alla fiducia del governo Draghi. Coloro che invece o perché non si sono presentati in aula oppure perché si sono astenuti, ecco, questi potrebbero essere riabilitati, si parla insomma di una riabilitazione. Insomma, il partito dei duri e puri sta diventando buonista, sempre più simile al Partito Democratico. Ed infatti questo avvicinamento al Partito Democratico sembra proprio confermato anche da un sondaggio e arriviamo così al sondaggio. Sondaggio condotto dalla SVG per il Tg la 7 di Enrico Mettana. Questa è la precisa domanda che è stata posta al campione. Se Giuseppe Conte diventasse il leader del Movimento 5 Stelle, a quali delle seguenti liste darebbe il suo voto più probabilmente? Ed ecco il clamoroso esito. Lega 22,3%, Movimento 5 Stelle 22%, Fratelli d'Italia 16,1%, Partito Democratico 14,2%, Forza Italia 6,1%. Sembra così che agli italiani piaccia Conte alla guida del Movimento 5 Stelle. Personalmente però, ecco, temo che il sondaggio sia un po' troppo generoso, uso questo termine, insomma, nei confronti del Movimento. O meglio, ecco, non voglio ingenerare fraintendimenti. Chiarisco. Naturalmente non dubito sulla correttezza della SVG, che è una nota società di rilevazione dati. Intendo soltanto dire che oggi Giuseppe Conte gode ancora della notorietà acquisita, appunto, con la permanenza per quasi tre anni a Palazzo Chigi. Ritengo invece che quando andremo a votare, Conte non sarà più così popolare presso gli italiani. In ogni caso, obiettivamente è clamoroso il crollo verticale del Partito Democratico, un partito che, come tutti sappiamo, viene considerato un po' un po' il tronificio. Probabilmente però, proprio per questo motivo, messo alle strette, potrebbe tornare ad inglobare nei prossimi mesi sia Italia Viva di Renzi che azione di Calenda. E ora possiamo così giungere a questa conclusione. Centrodestra e centrosinistra, come accade da sempre in Italia, si equivalgono o comunque differiscono sempre di pochi punti percentuali. Ma all'interno delle due coalizioni stanno avvenendo cambiamenti quasi epocali. Quindi chiudo ponendovi quest'ultimo interrogativo. Cantavamo il De Profundis del Movimento 5 Stelle ed invece il paziente in pericolo di vita è il Partito Democratico? A voi la risposta.